La domanda di Franca. Buongiorno a tutti, come state? Buon inizio settimana. Bene, Franca, grazie. Questo l'ha scritto lunedì, credo. Caro fratello Giuseppe, avrei una domanda da farti. Dopo aver superato il tempo della fine, inizierà il millennio. Pensi che Roma, meglio detto Impero Romano, che oggi se non sbaglio è il VI e quindi sarà distrutto dall'Anticristo, il VI Impero, sarà distrutto dall'Anticristo, pensi che il VII Impero sorgerà all'insegna del cristianesimo? Ovvero rinascerà da lì, da Roma, e sarà una cellula importante della cristianità? Grazie, pur sapendo che Gerusalemme è e sarà il centro del mondo dove tutte le nazioni andranno ad adorare Gesù Cristo. Un abbraccio a tutti voi in Cristo Gesù e un santo bacio. Dio vi benedica immensamente. Grazie Gesù per la nostra Chiesa, la nostra radio e tutti i fratelli e sorelle sparse in tutto il mondo. Dacci forza per poter crescere in modo dismisurato, per riempire l'universo. A presto, Franca. Che bella preghiera. Riempire l'universo per Gesù. Un abbraccio, Franca. Dio ti benedica. Lei dice, dopo aver superato il tempo della fine, inizierà il millennio. Pensi che Roma sarà una cellula importante della cristianità? Allora, guarda, quello che dici tu è corretto. Nel millennio ci sarà un cristianesimo, certo. Infatti, nell'Apocalisse 20 si parla della città dei Santi. Ora, riguardo a Roma, no. Io direi proprio di no. Perché no? No, perché il centro della cristianità sarà Gerusalemme. Infatti, lei menziona Gerusalemme, no? Sì, sì. Pur sapendo che Gerusalemme è e sarà il centro del mondo, dove tutte le nazioni andranno ad adorare Cristo Gesù. Ecco, Angela, fa finta che sei franca. Io ti chiedo. Ci provo, sì. E Roma cosa c'entra con questo? Ma Roma oggi è molto importante come centro di cristianità. Non rimarrà niente, niente di questo? Ma Roma rappresenta... Roma rappresenta il centro della cristianità adesso, che c'è la cristianità cattolica. Sì. Però rappresenta anche la fine dell'impero romano. Perché i papi sono la continuazione dei cesari. Infatti è diventato il sacro romano impero. Giusto? E come i cesari, gli imperatori romani, si credevano Dio in terra. Giusto? Si credevano divinità. Sì, sì. E così il papa fa finta di essere una divinità. Lui si presenta come rappresentante di Dio in terra. Cioè, lui si presenta come Cristo in terra. Lui si presenta. Il che è una bestemmia. Però spiritualmente il diavolo ha fatto così le cose, perché così come gli imperatori romani erano divinità, quindi il papa che è la continuazione dell'impero romano, quindi la chiesa cattolica romana, non cristiana, romana, allora il papa anche lui, gli imperatori romani erano divinità, e il papa anche una divinità perché rappresenta Gesù Cristo in terra. E quindi questa è assolutamente non scritturale, una bestemmia. Va bene? E allora cosa succederà? Succederà che quando viene un anticristo, lui inizierà il settimo impero, il settimo impero, la settima testa del dragone. E cosa farà dalla sesta? La distruggerà. La distruggerà. E io mi aspetto una bomba atomica su Roma, mi aspetto almeno sul Vaticano, perché a parte il fatto che è una vergogna di crisi, è una vergogna di religione, non parla dei cattolici, parla del Vaticano, sono due religioni diverse. Però se il diavolo sta usando il Vaticano Roma per creare questa religione immensa che poi svia la gente, perché l'anticristo la distrugge? Perché il diavolo la sta usando? Il diavolo, l'anticristo, userà il papa per fare l'ecumenismo mondiale e guidarlo anche e presentarlo all'anticristo su un piatto d'argento. E allora perché la distrugge? Ok, però io credo che l'anticristo distruggerà lo stesso Roma perché Roma ha troppa autorità. Basta che mettono un altro papa, quando questo qua muore, e l'altro papa magari, chissà, chissà che sia un cattolico normale invece di essere un paciamamo. Magari. E allora l'anticristo non vorrà correre i rischi e distruggerà il Vaticano di sicuro. Non so se distruggerà anche Roma con un'atomica, il che è possibile anche, perché l'America cercherà di difenderla. Quando i bolsevichi presero il potere in Russia, si assicurarono di uccidere ogni membro della casa, del casato, dello zar Nicola. Nicola II, credo, e furono tutti uccisi e massacrati perché i bolsevichi volevano assicurarsi che un discendente dello zar non si presentasse poi a dire «Io sono lo zar». E loro hanno ucciso tutti i bambini. E fu una strage tipica dei marxisti. I marxisti sono sempre così. Marx ha insegnato «Se non uccidi i borghesi, i soldi non te li danno, dobbiamo ammazzarli tutti». E lui da bravo posseduto e indiavolato ha insegnato a uccidere tutti. Veramente il primo a insegnare è stata la rivoluzione francese, Robespierre e compagni, da dove Marx ha tinto a piene mani. Ora, no, io assolutamente non credo, soprattutto perché questi pacciamami sono sotto la maledizione di Dio perché stanno distruggendo una chiesa, che era la chiesa cattolica, per male che era è racconciata male, però adesso è diventato diciamo indiavolata completa. E mi dispiace per i poveri cattolici seduti sulle panche che queste cose non le capiscono. Nel millennio, a parte Gerusalemme, non ci saranno altri centri della cristianità per il mondo? Ma io non credo perché alla fine del millennio, quando il diavolo viene liberato dalla prigionia, Apocalisse 20, dall'1 fino al 7, viene liberato il diavolo, lui vedi che, ma perché non le dice 7 al 10, sono quattro scritture. Dove? 7 al 10. Apocalisse? Apocalisse 20. 27. Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Ok, allora dice, quando i mille anni saranno trascorsi, il diavolo viene liberato, mentre l'anticristo viene messo nel lago di fuoco, Apocalisse 19 e 20, il diavolo, Apocalisse 20, verso 1 a 3, viene imprigionato. Verso 7, dopo il millennio, finito il millennio, il diavolo viene liberato. Cosa farà? Attenzione che qui c'è la risposta alla tua domanda. Il loro numero è come la sabbia del mare e salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. Apocalisse 20, da 7 a 9. Ecco, allora, cosa fa il diavolo quando viene liberato? Inganna tutto il mondo, come oggi lo sta ingannando col socialismo, che poi diventa il marxismo, che poi diventerà dittatura, totalitarismo, anticristismo, marchio della bestiaismo. Va bene. Il diavolo sta facendo questo adesso con l'anticristo. Poi, dopo il millennio, ripeterà. Va bene. Invece, infatti dice Gog e Magog. Cosa vuol dire? Che sarà basato sulla dottrina di Gog e Magog. Qual è? È il colore del dragone. Il colore del dragone è rosso. Apocalisse 17 a 3. Apocalisse 12 a 3. È in colore rosso. Cos'è? Comunismo, marxismo. E allora, cosa farà il diavolo quando viene liberato? Circonderà, verso 9. Assediarono il campo dei Santi e la città di Letta. Quindi, circonderanno, arriveranno da tutto il mondo e assedieranno, circonderanno la città di Letta, che sappiamo da Zaccaria 14 e Gerusalemme, perché dice, Zaccaria dice, ogni anno dovete venire qui adorare il re. Il re sarà Gesù Cristo. Quindi, non dice assedieranno due città o tre, una città. Quindi, Roma non conterà più niente, ma io non so neanche se Roma esisterà ancora. L'America, non di sicuro, Babilonia, Apocalisse 18, è distrutta, scomparsa, l'America diventerà un deserto atomico. Probabilmente anche il Canada che si sta comportando in un modo molto anticristo, almeno il governo. Ma tranquilli, quando questo succederà durante l'era di Dio, i cristiani non saranno più lì. Va bene? Saranno già stati rapiti e si hanno ascoltato la radio bla e si avranno già traslocato. Amen, sì. Quindi, non ci saranno due, tre, quattro cellule della cristianità per il mondo, però il centro sarà Gerusalemme, come dice Zaccaria 14. Sì, è come dice Apocalisse 20, verso 10, dice assedieranno, circonderanno, attaccheranno la città, come dice, il campo dei santi. Il campo dei santi, cioè i cristiani che saranno lì nella città di Letta. I santi sono i cristiani. Sì, sì, va bene. Ecco. Mi piace questo saluto di Franca alla fine e dice grazie Gesù per la nostra chiesa, la nostra radio, tutti i fratelli e sorelle sparse in tutto il mondo, dacci forza per poter crescere in modo dismisurato, per riempire l'universo. Amen, Franca, io mi unisco a questa preghiera e è veramente forte. Grazie Gesù e voglio ringraziare te e tutti i fratelli nel mondo che sostengono questa radio, questa nostra chiesa, che veramente mi piace come la metti, la nostra chiesa, la nostra radio. Ma è la vostra. di voi tutti. Non è la mia radio, è la vostra radio, la vostra chiesa. È vero, fratelli, voi la fate possibile con le vostre offerte, le decime, quindi state preziosi e andate avanti per Gesù che siete meravigliosi, vi amo. Grazie Gesù per voi. Siete voi che state rendendo possibile. Io sono solo quello che parla, io parlo solamente. E beh, se io solo do la parola, nient'altro. Ma quella è importante. Anche quella è primaria. Amen. Infatti, infatti, guarda, vediamo una scrittura qua, guarda, una scrittura Filemone 1, 1 e 2, perché qui sta parlando dei compagni d'opera. Lo leggo io? Sì. Allora, Filemone 1, 1 e 2. Filemone, nostro diletto, compagno d'opera e nostro compagno d'armi. Qui, questi sono i veri compagni. I comunisti si chiamano compagni. I veri compagni sono questi. Compagni d'opera in Cristo. E come la parola dice, noi consideriamo compagni d'opera e compagni d'armi i fratelli che con le loro decime offerte rendono possibile la nostra missione. Compagni d'opera, compagni d'armi. Va bene, che rendete possibile la nostra missione, compresa la nostra radio, perché senza di questi fratelli non potremmo aiutare tutti gratis. Molto semplice la situazione. Una radio senza pubblicità, senza, come si dice, monetizzare i messaggi di Dio che Lui ci dà e possiamo inviarli a tutti è gratis. Grazie, grazie fratelli. e grazie a voi che fratelli scrivono, una volta si scrivono fratelli che seguono me, una volta capito messaggi cristiani di qui, messaggi cristiani di là e sono pieni di pubblicità. Proprio nel mezzo della preghiera arriva comprate questo, quell'altro, andate a fare viaggi in crociera, tutto il contrario. il Signore ci ha protetto da non dover dipendere dai soldi di internet grazie a chi? Grazie a chi Angela? Grazie a voi fratelli. Ai fratelli. Ho capito come siete preziosi. Il Signore sta usando voi perché ogni giorno ma ogni singolo giorno riceviamo email da compagnie che chiedono permesso di mettere pubblicità sui nostri video e poi credo ci pagano qualcosa, non ho mai investigato, studiato come funziona ma chiedono permesso, possiamo collaborare e neanche rispondiamo mai a nessuno ma ogni giorno arrivano questi email. Sì, perché hanno visto che abbiamo più di 20 milioni di gente che non conosciamo, non ci scrivono però sono più di 20 milioni di, come si dice, di visualizzazione e loro lo dicono caspia, qui mettiamo pubblicità e lo so se si potrebbe fare dei soldi però non è meglio quando segui un messaggio che non venga il diavolo. Che ti puoi concentrare sulla parola, su Gesù e senti la sua presenza è bello stare con Gesù. E questo grazie a voi. Amen. Cioè loro mi ringraziano a me, io ringrazio voi e loro benedico a me e io benedico voi perché le benedizioni e l'amore devono essere avanti e indietro ricambiati nel nome di Gesù Cristo. Dai e ti sarà dato. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti